Anticipazione imposta al sole. Giovedì 10 giugno 2021. Lara pianifica di servirsi della rissa innescatasi con Marina a proprio vantaggio. La Giordano intanto furiosa pensa già a come fargliela pagare a caro prezzo. Fabrizio però profondamente turbato dalla vicenda prova a tutti i costi a fermarla. Ma non c'è verso. Più combattiva che mai l'imprenditrice vuole procedere dritta per la sua strada. Nel frattempo si mette in cerca di un modo per provare a risolvere i suoi problemi con viaggio e stabilisce che la sua prossima vittima sarà Marina. In seguito Patrizio grazie a che le ha confidato il suo amico Vittorio riceve da Clara dei segnali importantissimi. E ovvero nuove speranze di vivere una storia con lei. Nel frattempo i piani di Silvia e Giancarlo di rivedersi al Cineforum vengono rovinati dalla presenza di un terzo incomodo. Di chi si tratterà? Forse del marito di lei Michele? Grazie a tutti.